Ciao a tutti e benvenuti sul canale Serie TV Spoiler. Oggi ci ritroviamo ad affondare nelle profondità di un mare di emozioni e misteri, svelando a voi, pezzo dopo pezzo, le novità che riguardano la nostra affezionatissima SOP, Terra Amara, previste per le settimane a venire. Se al termine di questo viaggio troverete divertimento e interesse nel nostro racconto, vi invito a dimostrare il vostro affetto con un clic sul tasto Mi Piace. E, per non perdere mai il filo delle nostre anticipazioni, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale. Bene, senza dilungarci oltre, iniziamo. Un dramma ha scosso le fondamenta del mondo di Terra Amara. La nostra cara Hunkar è stata crudelmente trucidata. La feroce Behice, senza un pizzico di pietà, ha infranto la sua esistenza, stendendo un cupo velo di terrore ed esolazione sul racconto della nostra serie del cuore. La dolce Hunkar è scomparsa nel nulla, lasciando un baratro di trepidazione e inquietudine. Dopo una ricerca lunga e tormentata, è stato il suo leale figlio Demir a scoprire il suo corpo senza vita, portando a casa la tremenda verità. L'addio a Hunkar ha lasciato tutti in uno stato di sconcerto, dalla vibrante anima della grande tenuta, fino al grazioso e pittoresco villaggio di Ciuqurova. Un flusso di tristezza ha inondato ogni angolo di questo posto, lasciando un senso di perdita insopportabile. Tuttavia, quelli che sentono più intensamente l'assenza di Hunkar, quelli che stanno affrontando l'aspra realtà di questa tragedia, sono quelli che hanno veramente adorato Hunkar. Demir, Fekeli e la dolce Zuleyá. Zuleyá, dopo un cammino tortuoso di accettazione e perdono, aveva iniziato a considerare Hunkar come un faro materno, un pilastro di sostegno nelle tempeste della sua esistenza. L'addio a Hunkar l'ha privata di questo legame prezioso, lasciando un taglio profondo nel suo cuore. Il corpo inanimato di Hunkar riposa nella sua stanza, avvolto in un velo di desolazione e silenzio. Il figlio, la sua adorata moglie e Aminé, stanno lì, versando lacrime sul suo corpo immobile. La sensazione di perdita è così palpabile, così avvolgente, che sembra inaccettabile. In questa atmosfera di tormento e commozione, fanno la loro apparizione gli Akaya, venendo a offrire il loro sostegno alla famiglia in lutto. L'aria è densa di emozioni taciute, ma gli Akaya riescono a dare forma al loro dolore, esprimendo le loro condoglianze. Demir, visibilmente colpito, accoglie con riconoscenza le loro sincere parole di conforto. Yilmaz, guidato dal suo mentore, si dirige quindi verso il verde del giardino della tenuta, che si è trasformato in un luogo d'incontro. Un coro di volti, tra cui le figure più note del villaggio si è radunato per rendere il dovuto tributo ad Hunkar. È in questo intenso momento di condivisione della tristezza che Demir si unisce al gruppo, ricevendo da tutti manifestazioni di affetto e solidarietà. La madre di Demir, infatti, era un pilastro amato e rispettato della comunità, e la sua assenza apre un abisso di vuoto. Assistiamo poi al toccante saluto di Aminé e all'arrivo di Gulten alla tenuta. Gulten, visibilmente sconvolta, si avvicina al fratello, cercando conforto nel loro vincolo fraterno. Poco dopo, il corpo di Hunkar viene portato via. Le autorità ritengono necessaria un'autopsia. Il capo della guardia civile informa Demir che il corpo della madre dovrà essere sottoposto ad un esame più minuzioso. La morte di Hunkar, infatti, non è avvenuta per cause naturali, ma è stata una vita brutalmente strappata. Questa sconvolgente rivelazione non fa che peggiorare un quadro già straziante. Nel frattempo, mentre il dramma si svolge, Fikret, approfittando del caos e della distrazione generale, si insinua nella villa Yaman. Entra nello studio di Demir, ispeziona la stanza, guarda le fotografie, cerca qualcosa. Infine, trova ciò che cercava. Apre i cassetti, trova fotografie e documenti appartenenti a Hunkar e, in una busta nascosta, scopre la lettera scritta da Yilmaz a Demir. È la conferma che Mushgan è stata la responsabile del colpo sparato a Zuleya. Fikret, armato della preziosa missiva, lascia rapidamente la villa. Il suo comportamento solleva ulteriori domande e sospetti. Cosa nasconde? Perché ha rubato quel documento? La notte cala sulla tenuta Yaman, ancora animata da un brusio di persone. Gli uomini si sono raccolti all'aperto, recitando il Corano sotto il cielo punteggiato di stelle, mentre le donne si sono ritirate all'interno della villa, in preghiera e memoria di Hunkar. All'interno della dimora, Sanye e le ragazze si affannano a preparare il cibo per tutti. È ancora difficile credere che Hunkar non sia più tra loro. Nel quieto giardino, Demir trova un attimo di riservatezza con la piccola Huzum. La bambina, nonostante la sua tenera età, cerca di ispirare coraggio a Demir, poiché anche lei ha sperimentato la perdita della madre e comprende il tormento che lui sta attraversando. Trovano reciproco conforto nel silenzio del giardino. L'assenza di Hunkar ha lasciato un vuoto nell'anima di tutti coloro che l'amavano, un dolore troppo profondo per essere espresso. Fekeli, un uomo dal cuore indurito, si trova ad affrontare un dolore ineffabile, un tormento che penetra fino all'essenza e che sa, non svanirà mai completamente. Tuttavia, con una resilienza quasi sovrumana, afferma che dovranno imparare a convivere con questa angoscia. L'uomo, saggio per gli anni che ha trascorso, cerca di infondere coraggio agli Yaman. Li esorta a ritrovare il sorriso, a rialzarsi e riprendere il viaggio della vita. Demir risponde con voce tremante, desiderando che sua madre possa riapparire in quell'istante, rivelando che tutto non era che uno scherzo di cattivo gusto. Ma tutti sanno che non sarà così. Nel bel mezzo di tutto ciò, fa la sua apparizione Sevda, la cui presenza innesca immediatamente un mormorio di sussurri e congetture. Le donne, raccolte in preghiera, continuano a chiedersi chi possa aver compiuto l'orribile atto di assassinare Hunkar, mentre Behice, avvolta in un velo nero, finge di pregare per l'anima della signora Yaman. Il suo silenzio, la sua mascherata espressione di dolore, non sfuggono all'occhio attento delle donne. Sevda, nel frattempo, si avvicina prima a Zuleya e poi a Demir, per esprimere le sue condoglianze. Demir ammette di aver capito che la morte di sua madre non è stata un incidente o l'esito tragico di un furto, come l'assassino avrebbe voluto far credere. Infatti, Behice, dopo averla brutalmente ferita a morte, le ha sottratto i gioielli, ma ha trascurato di prendere il denaro che aveva nella borsa. Demir, con una determinazione fredda e feroce, giura di smascherare chi ha commesso l'omicidio e di farlo pagare carissimo per il suo crimine. Il giorno seguente, Sevda, Zuleya e Gulten, si adoperano per gli ultimi preparativi dell'ultimo viaggio di Unkar. Il suo funerale si svolgerà nel pomeriggio. Contemporaneamente, presso la residenza di Fekeli, Mujgan e Behice si riuniscono per discutere della tragica scomparsa della madre di Demir. Behice gestisce la situazione con un'ironia che confina con il disprezzo, mostrando una mancanza di deferenza. Questo comportamento solleva un campanello d'allarme in Mujgan, che inizia a nutrire sospetti verso la donna. Mujgan decide quindi di affrontare la zia, accusandola senza mezzi termini della morte di Unkar. Behice reagisce all'accusa pesante con un briciolo di drammaticità, fingendosi sorpresa e indignata. Poi, in un colpo di scena degno di un dramma televisivo, fa le valigie, chiama un taxi e se ne va, lasciando Mujgan sbalordita. Poco dopo, si svolge il funerale di Unkar, con la presenza di una moltitudine di persone. Durante la cerimonia, però, si verifica un evento inaspettato e tragico. Le guardie irrompono e arrestano Sevda, accusandola formalmente dell'omicidio della signora Yaman. Questa rivelazione provoca una scossa tra i presenti. Sanyi, in preda a un'esplosione di rabbia, si lancia contro Sevda, accusandola di aver devastato la sua famiglia. La tensione è palpabile, il dolore è tangibile, e il mistero dell'assassinio di Unkar rimane ancora avvolto nell'oscurità. Nel cuore del turbine che si è scatenato attorno a lei, Sevda proclama con voce tremolante la sua innocenza. Nonostante le sue affermazioni e le implorazioni disperate, le guardie la trascinano via senza esitazioni. In questo scenario di sconforto assoluto, lo sguardo si posa su Mujgan, la quale, con il cuore pesante, si precipita alla stazione di polizia per soccorrere la zia, sentendo il peso di un profondo rimorso per l'accusa che le aveva rivolto. Alla notizia dell'arresto di Sevda, Behice non riesce a nascondere un ghigno di soddisfazione. Ciò nonostante, tiene con destrezza il ruolo della vittima ingiustamente incolpata, interpretando perfettamente la parte della manipolatrice narcisista, riuscendo a far sentire Mujgan colpevole. Ma alla fine, con un gesto carico di simulata magnanimità, pretende di perdonare Mujgan e insieme fanno ritorno alla dimora. Nel frattempo, in un pittoresco camposanto del paese, si svolge il commovente rito funebre di Hunkar. Tra i più addolorati figurano, ovviamente, Demir e Fekeli. Le lacrime di commiato inondano il volto di quest'ultimo, che rimane al cimitero anche dopo la conclusione del rito, incapace di abbandonare quella che un tempo era la sua dolce metà. Con un dolore lacerante nel cuore, prende atto che metà della sua esistenza ora giace sepolta con lei. In un contesto pervaso di angoscia e disorientamento, Amminé inizia a cercare disperatamente sua figlia, preoccupata che Hunkar sia uscita e non sia più tornata. Desidera mettersi alla sua ricerca, sentendo che è un dovere materno. Non si può negare che le scene di Amminé in questo dramma risuonano profondamente nel cuore degli spettatori. E qui si conclude il nostro giro di anticipazioni della coinvolgente saga di Terra Amara. Grazie mille per aver seguito il nostro video. Se vi è piaciuto, vi invitiamo a premere il pulsante Mi piace e ad iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Ci rivedremo presto con nuove notizie, nuove emozioni e nuovi racconti da condividere. A presto!